Continua il legame bellissimo e molto speciale tra Bianca Azei e Jonathan Kashanian, nato all'isola dei famosi 2018. I due appaiono inseparabili, tanto da partire insieme per una vacanza a Formentera. I fotografi del settimanale gente li hanno immortalati sulle spiagge della bella isola spagnola. Felici, scherzosi, in perfetta sintonia. Semplice amicizia, o qualcosa di più, come sostengono in molti negli ultimi mesi. Era stata proprio lei a chiarirlo, qualche giorno fa. Ho una nuova storia d'amore, ha dichiarato Bianca di più la scorsa settimana. Con chi? Semplice. Con me stessa. La Azei e la cantante è ufficialmente single e sta finalmente archiviando il dolore provato dopo il legame finito con Max Biaggi che l'avrebbe lasciata, a suo dire, senza darle una vera spiegazione. Con Kashanian, invece, è semplicemente una grandissima amicizia. Ci vogliamo bene, con lui sto benissimo. La sua allegria è stata fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi. Intanto, lui lancia su Instagram l'hashtag Kashatsay e lei scrive a margine di una foto della loro vacanza. Stai vicino a chi non ti leva mai il sorriso sul volto e... Lo stesso Jonathan aveva affrontato l'argomento a fine maggio, nel corso di un'ospitata domenica live. Dopo quest'isola, posso farlo per la prima volta dopo 15 anni. Provo un affetto speciale per Bianca. Devo dare un'etichetta a questa cosa? No. Lei mi fa stare bene. Si può chiamare amore, bisogno di uno dell'altro. Non chiamiamolo. Bianca mi ha regalato un brio che non provavo da tanto tempo. La voglio al mio fianco. Di certo, a fronte di tante finte amicizie tra personaggi televisivi, si può dire che quello tra lui e la ZEI è uno dei legami più belli e sinceri del mondo dello spettacolo. Chi se ne frega.